Pronto, sono Jack. Voglio uscire. Consideralo il tuo ultimo lavoro. Non premerai nemmeno il credetto. Lei è americano? Sì, vacanza di lavoro. Alle mani da artigiano. E' bravo con le cose meccaniche. Faccio quello che so fare. I belgi ritengono che qualcuno sia sulle tue tracce. Hai una lunga lista di nemici, Jack. Ho detto di non farti avvicinare. È così. Sono una brava persona, però... Hai un segreto. Lei ha peccato molto. Gli uomini sono peccatori. Tutto quello che ho fatto era per una giusta causa. Non resterò per sempre. Portami con te. Un uomo può diventare ricco se ha Dio nel suo cuore. Non credo che Dio sia interessato a me, padre. Dio nel suo cuore. Non credo che solo sono a rimaza, perché da non fare più risc macroe. Grazie.